Ci troviamo al nuovo Divio Olimpia di Castelfrentano per la seconda gara di campionato prima categoria Girone B tra la Virtus Castelfrentano che giocherà con la divisa bianca con risvolti giallorossi e il Perano Calcio con la divisa giallonera. Il direttore di gara è della sezione di Vasto, è la seconda gara del campionato, si apprestano a fare l'ingresso in campo a scaglioni separati, entra prima il direttore di gara a seguire le due compagini per metterci in posizione al centro campo, no no, stanno entrando tutti insieme, è della sezione di Vasto il direttore di gara a seguire le due compagini